Sono Alberto Gianfreda, artista, scultore e con la scultura mi sono occupato nello specifico di indagare il rapporto e i temi dell'identità e della resilienza. Questa ricerca porta direttamente al lavoro sviluppato in collaborazione con l'ACMI Brevetti e nello specifico nelle stanze di Open Lab. Di fatto questi oggetti di partenza vengono frammentati, distrutti, i frammenti salvati completamente e ricostruiti sopra una trama metallica. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.